Let's go fishing for a dream, let's find some place new, all of this world is gonna see you shine. In collaborazione con Pianeta Pesca, via Amendola 420, Modena, www.pianetapesca.it Un saluto a tutti i nostri telespettatori, oggi siamo tornati in negozio per la seconda puntata dei nodi perché una ve l'abbiamo già data e un'altra abbiamo pensato che era una bella cosa, abbiamo pensato di riproporre alcuni nodi diversi farvi rivedere alcuni passaggi di quelli fatti, oggi con me c'è Paolo, ciao Paolo che sarà il braccio e la mente di questa cosa e abbiamo anche sfruttato l'esperienza di Vittorio che in questo momento non poteva essere con noi che aveva un impegno ma abbiamo capito qualche segreto e riusciamo a farvelo vedere. Paolo cosa facciamo oggi insomma, come ci muoviamo? Ma guarda, oggi avrei piacere farvi vedere come si può praticamente eseguire un Letcore Letcore che cos'è? Per chi non lo conoscesse Il Letcore praticamente è un dinema, un trecciato che all'interno è un'anima di piombo questo serve per appesantire sempre le nostre lense e per avere una presentazione molto naturale sul fondo del lago o dei fiumi Parliamo di car fishing, però questo tipo di Letcore fatto così, nel senso piombato all'interno può essere sviluppato in altre pesche, tipo la traina costiera, lo usiamo tanto, sono 10 metri di Letcore perché appesantiamo l'esca lasciandogli comunque vitalità senza avere proprio un vero e proprio piombo ma è un filo che possiamo recuperare dentro il mulinello, possiamo comunque mettere in canna in questo caso per dire che si sfrutta anche per altre cose, lo vediamo, vediamo come poterlo lavorare poi le lavorazioni uno le adatterà, ognuno le adatterà al suo tipo di pesca Esatto, praticamente vi farò vedere come si crea un loop senza dover eseguire dei nodi Una vera e propria asola Esatto, benissimo, allora partiamo con il nostro Letcore vediamo come ce lo possiamo creare Allora, noi abbiamo il nostro rotolino di Letcore andiamo a sfilare l'anima in piombo per una quindicina di centimetri poi lo torniamo a stendere dopodiché con l'utilizzo di un ago da innesco oppure un ago più specifico da Letcore come abbiamo noi in questo caso che è questo andiamo a recuperare praticamente dove finisce il piombo, l'anima in piombo Praticamente intanto che andiamo a inserire l'ago nel Letcore abbiamo tolto una parte di piombo all'interno per fare che cosa? Per creare lo spazio da inserire l'ago Per andare a riprendere lo stesso trecciato Perché noi dobbiamo inserire l'ago andare verso la fine del capo del Letcore Esatto, praticamente inseriamo l'ago dove abbiamo staccato il l'anima in piombo Ok, poi andiamo verso la fine Certo Per circa 5 centimetri dai 4 ai 5 centimetri poi facciamo uscire il nostro ago Facciamo uscire la punta diciamo la fine dell'ago che in questo caso è tonda però si dice alla punta Poi andiamo a riprendere Riprendiamo la nostra treccia Esatto, la fine della treccia e la ritiriamo dentro Esatto Praticamente la mettiamo dentro se stessa Ecco fatto La facciamo uscire Facciamo uscire Poi, giuntamente A questo punto noi con un goccio di colla dobbiamo fare in modo che non scappi Ne basta giusto giusto una goccina La mettiamo proprio dove terminava Esatto Sulla punta e poi la tiriamo dentro Esatto Perché così si andrà ad incollare All'interno All'interno Così siamo sicuri che non si muove più Dopodiché la andiamo a stendere Completamente Qui sfruttiamo Praticamente Il sistema Dell'incalzatura Sì perché le maglie Nel momento in cui le abbiamo allargate Si stringono su se stesse Esatto E di conseguenza vanno a stringere Sul filo che abbiamo messo all'interno Lo andiamo a tirare Molto bene Ok E quindi abbiamo creato La nostra prima asola Ecco qua Dopodiché facciamo la stessa cosa dall'altra parte Ne tagliamo circa 70 cm Lo fermiamo Con un nodo In modo che Non si sfili L'anima in piombo Ecco fatto È giusto una sicurezza Lo teniamo appuntato Sì sì Semplicemente una sicurezza Perché il piombo dentro Non si deve muovere Torniamo a rifare Quello fatto precedentemente Esatto Quello andiamo a tirare Utilizzando O un tiranodi Come questo Oppure come ho fatto prima Se non abbiamo un tiranodi Possiamo utilizzare Quello che è L'impugnatura Del nostro ago Ecco qua Così ci siamo creati Il nostro let core È una trecciolina piombata Con due loop Due asole Dalle due parti Che possiamo attaccare Alla lenza madre Al terminale Dall'altra parte Piombi Insomma non so Serve ad appesantire La montatura Esatto E questo oltretutto Nel caso del lancio Ha anche una funzione Di anti-tangle Sì anti-aggancio Esatto Perché dà rigidità Alla nostra Alla nostra lenza Ok Come dicevo prima Una volta agganciato Su un terminale Di una canna Da traina leggera La facciamo più lunga La facciamo a lunga Come vogliamo Appesantiamo All'esigenza nostra Quella che è un'esca Che potrebbe essere Anche solo una piumetta Ma così facendo La facciamo lavorare Appena sotto Anche un paio di metri Se mettiamo un'esca Con una certa paletta Però riusciamo a far lavorare Delle esche piccole A una buona velocità Questa è una cosa Molto semplice Ma che tante volte Non si conosce Allora Negli ultimi due o tre anni È venuta avanti Un'esigenza Un'esigenza Bravo Un'esigenza Per una montatura Legata soprattutto Alla pesca del tonno Si chiama Windon È un'asola Con la quale Andiamo a collegare Il terminale A quello che è La lenza madre Senza far nodi Senza cose particolari Però per fare questo tipo Di montatura Un po' di manualità Ci vuole Comunque ci sono da seguire Delle regole E avere dei materiali In modo particolare Dei materiali specifici Abbiamo Un filo invisibile In questo caso È il gnocuro Uno dei fili Che noi lavoriamo di più Per il tonno Da 85 libri Lo dovremo collegare Alla lenza Che abbiamo Sul mulinello Che può essere 30, 50, 60 libri In questo caso Dobbiamo collegare Il tutto Senza nodo Utilizziamo Un materiale particolare Che è un braid vuoto Che utilizziamo Da molto tempo Sappiamo già Questo qua È un Power Pro Ed è un Allo Core Nel senso È vuota all'interno Lo facciamo arrivare apposta Per fare queste montature È una cosa molto particolare Prendiamo All'incirca Un metro e mezzo Di Power Pro Faremo un lato Più corto Dell'altro Di 10 cm Con gli aghi Diciamo che raddoppiamo Il filo Che abbiamo tagliato Il metro e mezzo Tenendone un lato Più corto Di circa 10 cm Esatto Con un ago Andiamo ad aprire La possibilità Un foro Faremo un foro Sul filo lungo Il lato più lungo Così avremo La possibilità Di entrare Con un ago Per poter Allargare Il filo E passare dentro Col terminale Allarghiamo Un po' Il Diciamo La calza Di questo materiale Facciamo scorrere All'interno In questo caso Il filo Che noi abbiamo tenuto Un po' più corto Lo passiamo All'interno Di quello lungo Eccolo qua Rimaniamo Un attimino Attenti Da non Chiudere Troppo Questa Asoletta Oppure La possiamo anche chiudere Però Su qualche cosa Che ci dia poi L'opportunità Di riaprirla Di riaprirla A questo punto qua Noi abbiamo Il filo corto Che è passato Dentro A quello lungo Quello lungo Lo portiamo Sopra Al pezzo Che viene Utilizzato Per incalzare Assolutamente Il nylon Rifacciamo La stessa cosa Vuol dire Con un ago Apriamo Allarghiamo In questo caso Facciamo entrare il filo E per forza Lo dobbiamo allargare Altrimenti Non riusciamo Perché è molto tenace Questa Eccolo qua Arriviamo alla misura Che avevamo scelto Prima Perché noi sappiamo Che La soletta Che serve Sarà di circa I 10 cm Oppure la faremo Di 5 Di 20 Come vorremmo Noi Quello che noi Andremo a raddoppiare Esatto Usciamo con l'ago E abbiamo Il materiale Aperto Che ci permetterà Di entrare Col filo Con le nostre 85 libre Bene A questo punto Cosa molto importante Dopo svariate Cose che abbiamo provato Direi Non so quante Centinaia di esperimenti Abbiamo trovato Questo Collante qui Che è di base Cianolitica Tipo l'Attac Per intenderci Però è stato studiato Per Essere abbastanza Tenace Da tenere La nostra treccia Diciamo La nostra calza Sul filo Però sia Per un filo di nylon Come per un Fluor carbon Non dobbiamo bruciarlo E nonostante che è abbastanza rapido Non deve essere rapidissimo Perché ci deve poi dare la possibilità Di poterlo lavorare Ne andiamo a incollare Con una goccia di colla Appena appena Gli ultimi 4-5 centimetri Dobbiamo stare molto attenti Perché questo qui Non perdona Non perdona A questo punto Lo portiamo Il filo All'interno Ci avviciniamo al punto Che abbiamo incollato Esatto Questo Dobbiamo Tenerlo Saldamente Lontano Da quello che è l'Attac Perché Altrimenti alla fine Non ci fa più Fare niente Eccolo qua E' sufficiente averlo bloccato Appena appena Non è che dobbiamo incollarlo tutto Dobbiamo solo bloccare Solo bloccare Che abbiamo segnato Colorato Diciamo Per poterlo bloccare Un attimino Che ci dia la possibilità Poi di lavorare Andando a stringere La calza sul filo Dobbiamo Ritornare a chiudere Nel modo migliore possibile Nel migliore Diciamo così La chiusura più perfetta La facciamo E meglio è Vuol dire Di questa calza Che prima l'abbiamo aperta Per entrare Con il monofilo Adesso Noi gliela dobbiamo Andare a chiudere La torniamo a stringere Sul filo In modo che si chiudano Più possibile Le maglie Di questa calza qua Esatto Da grossa Come l'avevamo Fatta diventare Adesso Il nostro filo È abbracciato Da questa guaina Che Molto tenace E qui Non avremo Mai più problemi Quello che regge Tutto il nostro lavoro È questo Noi lo abbiamo Raddoppiato Perché Questo qui Ricoprendolo Avremo Innanzitutto Meno usura Di questo materiale Mentre andrà Dentro e fuori Dai passanti Dalle carrucole Quando Non so Tocca lo scafo Quando è in azione Giustamente E soprattutto E soprattutto Nelle dilattazioni Che un po' Ci saranno Sempre Perché il filo È molto elastico Questo filo Qui Questo lo protegge Eviterà di Gonfiarsi E avere E avere la spiacevole Sorpresa Che gonfiandosi Si spivola via Mi scappa via Adesso vado a riportare Andiamo a aprire L'asola delle dimensioni Che avevamo definito All'inizio Esatto Che è questa E Allora Queste qui sono 130 libre Che Lavorando Doppio Diventano 260 Sì che noi Abbiamo una potenza In esubero Senza problemi Con un ingombro Direi nullo Questo è Il Diciamo Il procedimento Base Per sistema Ma No Va poi chiuso Wind on Diciamo che Siamo arrivati al punto Che bisogna Andare a fare Una lavorazione Particolare Adesso per avere La certezza Che in pesca Potrei avere L'esigenza Di entrare E uscire Dagli occhielli Della canna Chissà quante volte Nel combattimento Con un pesce Molto importante Noi questi Ripeto Li utilizzeremo Per andare a toni Soprattutto Allora Noi dobbiamo Evitare Che Facendo attrito Qui sopra La nostra calza Si gonfi Perché questa Se si gonfia Il filo scappa Allora noi qui andiamo A fare una protezione Anche questa è una cosa Abbastanza semplice Utilizziamo Un bobinatore Frizionato Praticamente Che si può regolare In modo da stringere Da stringerlo E avere più o meno Tensione Poter dare più o meno Tensione In questo caso Vengono distribuiti Queste della Stonfo Ce n'è Di altre marche Anche Però Questo Lavora Veramente Bene Che dire Così facendo Adesso Vittorio Vi fa vedere Si può andare A fare Una legatura Su una parte Del Nostro Windhome Nostro terminale Che lo rinforzerà Per quelli che sono I due centimetri I tre centimetri Quelli che Sono necessari Nel nostro caso Vogliamo Che La tenuta Sicurezza in più Che gli andiamo a dare Per essere Certi al cento per cento Eterna E utilizziamo Non un filo normale Bensì un dyneema Sottilissimo Andiamo a girare Le spire Il più possibile Una stretta Vicina all'altra In un senso Per poi tornare indietro E rifare Il passaggio Sopra a quelle Che abbiamo già fatto Così facendo Si crea proprio Una legatura Stretta 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 Fine 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 Perché è molto sottile Che va a stringere La calza Sul nylon E impedisce Che il nylon Si possa sfilare Una volta che si bagna Pena sempre Una puntina Di colla A chiudere Quelle che sono Le legature Perché Vogliamo essere Sempre 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 Tranquilli La colla In questo caso È importantissima Perché non deve Cristallizzare Se no Diventa troppo rigido Quel pezzettino Che abbiamo incollato Comunque Che abbiamo legato Deve restare Sufficientemente morbido Per potersi piegare Quando entra Esce all'interno Di una carrucola Bene Ringraziamo Vittorio Di tutti questi Insegnamenti Perché sono Chicche Di esperienza Che fanno Solo che comodo Troppo buono Bene Adesso Facciamo vedere Se abbiamo Un amo normale Senza La preparazione Da parte L'azienda Con Il ring L'anellino E abbiamo L'anellino Da parte Come agganciare Questo anellino All'amo Sì Il procedimento È molto semplice È sufficiente Prendere Un fluorocarbon Poi prendiamo Il nostro amo Sempre con l'occhiello Sempre con l'occhiello Rigorosamente Infiliamo Il fluorocarbon Praticamente Dalla parte Davanti Ok Dove c'è la punta Ne prendiamo fuori Circa 15 cm E poi Procediamo Nella legatura Dell'amo Utilizzando Il sistema Del nodo Senza nodo Facendo Girare Praticamente Il fluorocarbon Attorno Al gambo E prendendo Anche Lo stesso Fluorocarbon Tante che le spire Vadano una di fianco All'altra Bisogna Tenerlo Esatto Vogliono tenute Ben tirate E senza Che si sovrappongano Per poi Farlo ripassare Dentro All'occhiello Facendolo entrare Dalla parte Di dietro Questa volta Ecco fatto Questo serve Per praticamente Bloccare Le spire Che abbiamo Eseguito Sull'amo Sul gambo Dell'amo Dopodiché Andiamo a prendere Un'anellina E la E l'applichiamo Sul fluorocarbon Questa è l'anellina Dove praticamente Andremo a legare Il filo Il bait floss Oppure Le anelline Elastiche Che andranno A tenere Le nostre esche A bloccare Le esche Sull'amo Ora facciamo Ripassare Anche l'altra parte Del fluorocarbon Dentro L'occhiello Esatto L'altro capo Rientra Dove è entrato Quello precedentemente Sempre dalla parte Sempre dalla parte Dietro Noi dovremo andare A creare La nostra D Praticamente Questo si chiama D-rig Ora noi andiamo A tagliare Una parte Lasciando Quella sufficiente Per poter creare Una pallina Che si bloccherà Sull'occhiello Dell'amo Come la creiamo La pallina Con un accendino La cosa semplicissima Esatto Andando a scaldare Il fluorocarbon Ecco fatto In questo caso Si è creata La pallina Si deve raffreddare E noi ci siamo creati Praticamente Il nostro terminale Ora andiamo A eseguire L'asola Dalla parte Opposta Utilizzando Sempre il sistema Del nodo A8 Questo è un nodo Che è Molto consigliato Per il fluorocarbon Ecco fatto Bene Diciamo che Una qualche informazione L'abbiamo data Non voleva essere Una cosa Da professore Ma voleva essere Giusto Qualche pizzico Qualche nozione Semplice 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 Ringraziamo Vittorio Che invece Ci ha lasciato Qualche segreto Un po' più Importante Da far vedere I nostri Telespettatori Oggi non poteva essere qua Quindi abbiamo fatto La cosa prima È stato bravo Windon È una cosa difficile Da far vedere E io penso Che meglio di Vittorio Non c'era nessuno E a questo punto Io ringrazio Paolo Noi ringraziamo I nostri telespettatori E vi diamo appuntamento Alla prossima puntata Magari con due pesci Sì Speriamo Speriamo Ciao a tutti In collaborazione con Pianeta Pesca Via Amendola 420 Modena www.pianetapesca.it Let's go fishing For a dream Let's find some place new All of this world Is gonna see you shine